Primo match point promozione, prima occasione per chiudere i conti e brindare al salto diretto di categoria in Serie 2. Il Cristian Barletta è ad un passo dallo storico traguardo, proverà a raggiungerlo già domani pomeriggio a Conversano con inizio previsto alle ore 16 nel penultimo appuntamento della stagione regolare. I biancorossi ci arrivano con 4 punti di vantaggio sulla Virtus Rutigliano, sconfitto nello scontro diretto di due settimane fa al pala di sfida. Una vittoria contro i baresi dunque permetterebbe ai biancorossi di Antonio Dazzaro di vincere matematicamente il Girona F con una giornata d'anticipo. Siamo qui per scrivere la pagina di storia più importante di tutto il Cristian Barletta e siamo certi che sabato conseguiremo questo tanto agognato risultato. C'è un movimento in fermento, tutta la città non aspetta altro che il risultato di sabato, che la partita di sabato. Avremo un grande seguito, infatti abbiamo già organizzato vari pulma con i quali la nostra tifoseria sicuramente seguirà la squadra. Siamo certi che sabato si arriverà a festeggiare quello che ormai posso dire è un traguardo strameritato. Occasione d'oro dunque, chance da sfruttare contro una formazione di azzurri con Conversano che non ha più nulla da chiedere a questo campionato. Possibili tagliotte per riscattare la sconfitta in finale di Coppa Italia contro l'Odissea 2000 a Rossano. Una battuta d'arresto, quella rimediata contro i calabresi, che non può e non deve cancellare la tre giorni della Final Eight andata in scena al Paladisi da Mario Borgia. E' mancata soltanto la ciliegina sulla torta al Cristian Barletta, a cui resta la gioia di aver organizzato in maniera impeccabile la rassegna tricolore e di aver coinvolto più di 2000 spettatori sugli spalti. Resta una soddisfazione immensa essere riusciti ad essere partecipi fino alla fine di una manifestazione così bella e soprattutto aver avuto anche l'onore e il pregio di organizzarla, rende la società ma anche tutto il movimento calcettistico del Cristian Barletta felici e onorati. Certo la ciliegina sarebbe stata quella di alzarla il trofeo, però crediamo che alla fine il risultato sia stato conseguito pienamente. Troppo importante il presente nel caso specifico la trasferta di Conversano per cominciare a pensare al futuro. Una cosa è certa, la dirigenza del Cristian vuole continuare a regalare gioia e soddisfazioni ai propri tifosi. Godiamoci questi momenti e poi dal 3 aprile penseremo a quello che sarà la stagione 2016-2017. L'unica certezza che posso dare a tutti i nostri tifosi è che questo progetto vincente ha tutta l'ambizione di continuare ad esserlo ed sicuramente darà dimostrazione di essere pronta e continuerà ad essere un piccolo fiore all'occhiello di tutta la barletta sportiva. Il futsal barletta ormai fuori dai giochi playoff se la vedrà al pala di sfida Mario Borgia a partire dalle ore 16 contro il San Antonio. Rocco Ruvo nell'ultimo appuntamento casalingo di questa stagione.